Un musical come progetto pedagogico volto a mettere insieme bambini delle scuole dell'obbligo di varie fasce d'età, prima e quinta elementare e scuola media inferiore. Ci hanno provato a Cava dei Tirreni con un'opera tutt'altro che semplice da mettere in scena, Scugnizzi. Noi siamo andati a curiosare tra baby attori ed insegnanti prestati alla scena. E' stato un progetto veramente molto coinvolgente da parte dei ragazzi ed è bello, insomma, lavorare così con l'entusiasmo dei ragazzi è sempre piacevole. Questo è stato un bel musical, mi starò per divertire tantissimo e niente, saluto tutti. E' stato un bel saluto all'elementare questo musical, a me è passato a partecipare e mi sono divertito, è stata una bella avventura questa. Niente, veramente si dimostra una persona che sta lavorando tantissimo con questi bambini, soprattutto per sviluppare delle competenze per la vita. Questo tipo di attività sono attività pratiche che consentono una serie di risultati in termini di competenze prosociali, in termini di competenze relazionali e quindi a livello anche educativo e sociologico.